nuovo ospedale a muraglia ora si valutano le tempistiche schizzano i contagi nelle marche 301 in un solo giorno albergatori diventa operativa la nuova presidenza costantini passatelli di pesce e non solo arriva mare magnum festival buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 10 novembre questa sera apriamo parlando di alcune notizie e approfondimenti riguardanti la sanità a cominciare dal nuovo ospedale di pesaro che sarà realizzato nel sito dell'attuale nosocomio di muraglia dopo la scelta del comitato tecnico che lo ha preferito all'ipotesi di case bruciate ora i principali interrogativi sono sulle tempistiche di realizzazione allora vediamo questo primo servizio di daniele sacchi si sta per chiudere una storia secolare l'ospedale san salvatore non sarà più il centro medico di riferimento della città di pesaro e della provincia di pesaro e urbino un destino che era noto da mesi ma che da ieri ha designato ufficialmente una nuova struttura di edilizia ospedaliera sorgerà qui il nuovo ospedale di pesaro sul sito dell'attuale struttura di muraglia una scelta arrivata dopo la relazione finale prodotta dai tecnici designati tra regione marche e comune di pesaro che ha valutato vari parametri nel definire questa la scelta più appropriata per il nuovo ospedale preferendola a quella di case bruciate muraglia è stata preferita dai tecnici per qualità e funzionalità sanitaria e per sostenibilità ambientale e urbanistica in un'azione che in dieci giorni ha dato un'accelerata rispetto a dieci anni di marcia singhiozzo e retromarce sul futuro dell'edilizia ospedaliera territoriale da ultima la revoca del project financing sull'ospedale unico e l'addio a un progetto da 600 posti letto naturalmente ci si chiede come sarà il nuovo ospedale di pesaro che sorgerà su questo sito di muraglia l'obiettivo dichiarato è quello di una struttura da realizzare con 372 posti letto su una superficie di 42.000 metri e quadrati estendibili a 48.000 includendo un allargamento sulle aree già esistenti del polo oncologico di radioterapia e di ematologia considerando il tipo di terreno e di spazi di ampliamento quella di muraglia sarà probabilmente una struttura che si svilupperà molto in verticale sicuramente molto più di quanto si sarebbe realizzato sul terreno vergine di case bruciate quello che le associazioni ambientaliste avrebbero preferito in una logica di edilizia molto meno impattante la carta che case bruciate poteva giocarsi era quella dei costi ridotti di realizzazione stimati in 140 milioni di euro ma l'iniziale previsione di investimento di 170 milioni di muraglia è stata ricalibrata dal comitato tecnico a 150 milioni attraverso uno studio di ottimizzazione di risorse si è dunque chiusa la partita sulla scelta del sito una scelta dalla gestazione lunga e davvero travagliata non meno intricata però sarà la modalità di realizzazione del nuovo ospedale di muraglia a cominciare dai tempi attualmente molto nebulosi e poi ci sono altre incognite da chiarire una di queste è il futuro dell'ospedale san salvatore di pesero quale destinazione d'uso avrà quali servizi verranno conservati quali trasferiti e quali invece modificati è stata una giornata nera dal punto di vista dei contagi nella nostra regione marche con un alto balzo in avanti di 301 casi in un solo giorno di cui 99 nella provincia di peserurbino numeri così alti non si vedevano dalla scorsa primavera con il 13 per cento di tamponi positivi al contagio e un'incidenza settimanale schizzata a 83 casi ogni 100 mila abitanti cifra quest'ultima che non era così alta da agosto numeri preoccupanti che potrebbero anche mettere in pericolo lo status di zona bianca delle marche marche che perlomeno vedono stabili ricoveri che sono 93 ovvero uno soltanto in più di ieri con 22 pazienti in terapia intensiva oggi non si sono registrati decessi altri numeri quelli dei vaccini per arginare questa quarta ondata il report prodotto dall'osservatorio epidemiologico regionale aggiornato ad oggi ci mostra come procede l'avanzamento della campagna vaccinale in tutta la regione comune per comune in provincia di peserurbino il comune più immunizzato e attualmente più obbico con l'88 per cento degli abitanti vaccinati mentre peglio vanta addirittura il 99 virgola 5 per cento di vaccinati fra i cittadini sopra i 60 anni i comuni più indietro con le vaccinazioni sono gabice mare e gradara rispettivamente al 66 e 67 per cento in questa graduatoria la città di pesaro conta ad oggi un 77 per cento di cittadini vaccinati fano il 79 per cento urbino l'81 per cento il video a cartone animato che vi mostriamo ora è stato prodotto dall'asur marche e ricorda come da oggi fino al 20 dicembre prenderà il via la seconda fase del programma scuole sentinella con l'effettuazione dei test salivari agli alunni delle scuole marchigiane una seconda fase dello screening voluto dalla regione che prevede ora la novità dell'autoraccolta del campione salivare da parte delle famiglie direttamente a casa nella prima fase dello screening sono state monitorate 93 scuole con 5500 test che hanno rivelato un solo caso positivo al covid ed ora cambiamo completamente argomento dimissioni di massa all'interno del consiglio dell'ordine dei farmacisti di pesaro urbino dopo la sfiducia al presidente giovanni pierini antonio astuti consigliere dell'ordine chiarisce i motivi di una vicenda che ha creato un terremoto all'interno della categoria professionale provinciale antonio astuti consigliere uscente dell'ordine dei farmacisti di peso urbino oggi sulla stampa locale sono uscite alcune notizie di dimissioni che emeritano alcuni chiarimenti da parte della categoria sì sicuramente perché le dimissioni del consiglio dell'ordine dei farmacisti sono state massive cioè l'intero consiglio si è dimesso circa tre settimane fa in seguito a una decisione che sarebbe dovuta essere presa all'interno del consiglio che non è stata condivisa da tutti i consiglieri in poche parole è venuta meno la fiducia nei confronti della presidenza dell'ordine dei farmacisti in merito a un procedimento disciplinare procedimento disciplinare molto delicato e molto complicato perché riguarda una vicenda difficile di comprensione comunque molto intricata al di là di questo ovviamente è venuta meno la fiducia nei confronti del presidente il consiglio ha preferito dimettersi perché era impossibile andare avanti a continuare svolgere questo ruolo con serenità e con la giusta proprio volontà di portare una missione così importante come quella legata alla professione del farmacista ceriamo anche da chi è interno appunto al consiglio dell'ordine quali sono i motivi che hanno portato alla sfiducia del presidente dell'ordine pierini i motivi sono quelli legati al fatto che il consiglio era diviso in due in merito a una decisione come abbiamo detto riguardante un procedimento disciplinare il presidente aveva preso una certa direzione nella soluzione di questo procedimento il resto del consiglio non è stato assolutamente dell'idea del presidente quindi ci siamo trovate di fronte a una non condivisione su un elemento così importante e ovviamente le conseguenze sono state che resisi conto che mancava proprio il motivo la fiducia nei confronti di chi avrebbe dovuto interpretare il ruolo di presidente non ha preso la strada che era invece quella consigliata dall'intero consiglio ovviamente il consiglio si è dimesso adesso ci saranno le elezioni supplettive fra circa un mese si riunirà di nuovo l'assemblea di tutti i farmacisti della provincia per eleggere un nuovo consiglio e vedremo quale sarà l'evolversi della situazione si terrà domani la prima riunione operativa del direttivo dell'Apa Hotels dopo otto anni di presidenza Oliva il nuovo presidente è Paolo Costantini titolare dell'hotel Astoria che andiamo a conoscere in questa intervista Paolo Costantini da un paio di settimane è il nuovo presidente dell'Apa Hotel degli albergatori di Pesaro dopo otto anni di presidenza di Fabrizio Oliva immagino sia motivo d'orgoglio ma anche di responsabilità per una categoria centrale nell'economia pesarese sì sicuramente motivo d'orgoglio perché ho visto molta partecipazione da parte di tutti gli associati e motivo di responsabilità perché di attività e di cose da fare ce ne saranno e ce ne sono e ce ne saranno molte quello che è venuto fuori dall'assemblea è sicuramente la voglia di collaborare con l'amministrazione comunale e di portare avanti i vari progetti Ecco, quali sono magari i punti di continuità con il lavoro precedente e quali invece gli obiettivi di novità? I punti di continuità sono molti perché sono attività già avviate dal presidente Oliva e dal presidente direttivo mi viene in mente ad esempio la questione dei parcheggi sul lungomare piuttosto che la necessità di dover trovare un decoro a tutto il lungomare cosa che magari negli anni passati vuoi anche per una problematica legata alla pandemia degli ultimi due anni è stata un po' rallentata e un po' raffazzonata Sulle novità il direttivo si riunirà giovedì di questa settimana e proporremo nuove idee e nuove iniziative che poi renderemo pubbliche dopo il direttivo La movida di Viale Trieste per noi albergatori è stato un problema perché comunque è bene animare il lungomare, è bene che ci siano persone però le regole vanno rispettate quest'estate probabilmente si è andato un po' fuori delle regole e quindi si sono creati dei problemi soprattutto in alcune aree ben circoscritte e ben individuabili Per quanto riguarda invece la pedonalizzazione siamo favorevoli in ordine generale alla pedonalizzazione e probabilmente va concordata meglio anche in ordine alla possibilità di lasciare dei passaggi per i turisti che poi devono arrivare negli alberghi perché quest'anno qualche problema c'è stato e quindi probabilmente va definita meglio non che non ci sia ma meglio definita La zona di Levante è quella che ad oggi soffre maggiormente dal punto di vista della riqualificazione ci servono tante cose da fare ad esempio sfruttare meglio piazzale d'annunzio e sfruttare meglio la fine del viale verso Fano sotto l'hotel Alexander sono tutte zone che ad oggi soffrono sia per viabilità sia per parcheggi ma anche come attività si sta parlando da anni della sistemazione del fiume lì di Levante si sta parlando da tempo della riqualificazione di piazzale d'annunzio e sono tutti temi che in continuità a proposito di continuità della precedente presidenza porteremo avanti cercando di ottenere maggiori risultati Turismo e valorizzazione del territorio passano anche per il recupero di casolari rurali ne è convinta l'amministrazione comunale di Vallefoglia che ha avviato un piano di agevolazioni in tal senso la normativa è approvata è immediatamente eseguibile quindi tutti coloro che vogliono recuperare vecchi fabbricati agricoli possono presentare la concessione di Linsia agli uffici tecnici del Comune l'ufficio urbanistica Sant'Angelo dell'Isola e diciamo una quarantina di fabbricati quelli di maggior valore sono conservativo, totale così come più o meno erano già senza modifiche tutte le altre possono avere dei miglioramenti e quindi recuperare 150 abitazioni considerando che ci sono delle agevolazioni dello Stato per noi ci sembra abbastanza importante le agevolazioni sono per il contenimento energetico per la normativa sismica per renderle con l'aria che tira con i terremoti diciamo più robuste dal punto di vista sismico e quindi abbiamo buone ragioni per pensare che probabilmente presenteranno dei progetti di recupero piuttosto che costruire il nuovo recuperiamo gran parte della storia, della cultura, delle tradizioni delle nostre campagne, dei fabbricati rurali e quindi questo è il senso di questo provvedimento che noi riteniamo molto importante C'era una legge, una legge degli anni 90 che prevedeva che ogni comune doveva fare il censimento di tutte le case rurali e di queste scegliere quelle che avevano delle qualità da un punto di vista della tipologia tipica della casa rurale marchigiana da un punto di vista storico architettonico e queste salvaguardarle noi avevamo un elenco molto numeroso che prevedeva anche tutta una serie di edifici che forse questi grandissimi valori da un punto di vista tipologico architettonico non avevano e nel tempo una parte di questo patrimonio non recuperato anche per le difficoltà operative e tecniche che c'erano magari per fare il restauro conservativo sono diventati dei ruderi o sono state abbandonate questa normativa cerca di intervenire con la ristrutturazione anche se non è previsto lo spostamento, lo scivolamento della casa e la sua demolizione cercano in questo modo di agevolare l'intervento che il privato potrebbe fare Anche nella provincia di Pesaro Urbino la sentenza del Consiglio di Stato sulle liberalizzazioni delle concessioni demaniali dal 2023 ha acceso molta inquietudine fra i concessionari di spiaggia Per l'occasione Sabrina Cardinali presidente provinciale di CNA Balneatori ha convocato domani tutti i titolari di imprese della balneazione ad un confronto in una call a livello nazionale della CNA in cui si chiederà una riforma del demanio per individuare un equilibrio tra i principi della concorrenza e la tutela degli investimenti dei concessionari uscenti Arriva un altro riconoscimento all'ecosostenibilità pesarese con il sindaco Matteo Ricci che è stato oggi premiato a Parma con il Cresco Award 2021 ottenuto grazie a due progetti green con cui è stata realizzata la scuola Brancati di Via La Marmora Cresco Award è stato assegnato anche al Comune di Terre Roveresche nella categoria Comuni da 5.000-10.000 abitanti con il progetto Un anno dall'introduzione della CO2 Tarip Parliamo anche di spettacoli perché nel weekend c'è un nuovo appuntamento con la stagione teatrale della piccola ribalta nella sede di Via dell'Acquedotto sabato 13 novembre alle ore 21 domenica 14 novembre alle ore 17 andrà in scena Il Dubbio dramma in due atti del premio Pulitzer John Patrick Shelley che ha avuto grande successo anche nella versione cinematografica con Merlin Streep l'adattamento e la regia sono di Bisser Jenga Ed ora parliamo di eventi perché sabato e domenica a Pesaro arriva Mare Magnum prima edizione di un festival che esalta il gusto del pesce dell'Adriatico preparato dai ristoratori pesaresi insieme ad approfondimenti con i pescatori locali ma anche show cooking il festival doveva svolgersi nella centralissima piazza del popolo ma a causa di previsioni meteo poco rassicuranti sarà dirottato nel cortile di Palazzo Gradari coperto per l'occasione da una tensostruttura si chiama Mare Magnum Festival il pesce nelle tavole pesaresi il 13 e il 14 novembre questo weekend sabato e domenica vedete il manifesto alle mie spalle indica piazza del popolo ma non sarà questa la location questo perché le previsioni meteo non sono incoraggianti e dunque il festival si terrà a Palazzo Gradari sarà un grande momento dedicato al pesce del territorio al pesce stagionale quello di novembre non solo il passatello ma anche si va dalla Mazzola alla Sogliola alla Triglia al Moscardino tante opportunità da degustare e da valorizzare un festival realizzato in collaborazione tra Comune di Pesaro Confesercenti Associazione Ristoratore di Confcommercio Confartigianato e Alberghiero Santa Marta ci saranno show cooking ci saranno approfondimenti con gli esperti si andrà alla scoperta dello stesso mercato ittico e dell'attività dei pescatori di Pesaro una due giorni in cui potere conoscere in cui potere degustare in cui potere assistere agli show cooking in cui potere entrare in contatto anche con i ristoranti che portano avanti questa cultura e che appunto faranno trovare nelle tavole questi piatti è un bel abbinamento perché ci permette di fare un lavoro anche educativo oltre che gustativo sulla filiera corta e soprattutto sulla sostenibilità della pesca che sappiamo essere un tema fondamentale anche rispetto alle sfide climatiche e alle sfide ambientali in generale quindi è un'occasione per far conoscere il nostro mare e il nostro pesce naturalmente quindi anche la stagionalità del pesce soprattutto in questo caso nel mese di novembre che è un mese anche molto ricco ma che va ovviamente utilizzato nella maniera migliore senza stravolgimenti di abitudini è un modo per riscoprire le ricette principale protagonista sarà ovviamente il passatello di pesce che è stato indicato dalla Deco Comunale con la commissione che si sta lavorando insomma come piatto diciamo da cui partire per una valorizzazione delle Deco che non sarà solamente cucina sarà anche tante altre tipicità del nostro territorio è un'avvertenza importante per chi parteciperà a questo festival sarà un festival assolutamente all'insegna della sostenibilità all'insegna del plastic free bisognerà portarsi infatti il piatto da casa un bel gesto semplice per un festival sostenibile portate il piatto ve lo riempiamo noi è questo uno degli slogan che accompagna questo Maremagnum Festival il piatto è stato scelto anche visto il periodo che è novembre è un piatto della tradizione tipica peserese che è il passatello in brodo di pesce con le varianti anche col sugo di pesce è un piatto che cerca di valorizzare i pesci tipici della zona e della stagione diciamo che potrebbe essere l'emblema come poi primo piatto del comune di Pesaro perché si spera che questa iniziativa abbia altri piatti da poter essere annoverati nel comune come patrimonio della città sappiamo che ce ne sono tanti l'occasione era per mettere il primo ed è stato il passatello in brodo di pesce l'abbiamo fatto per incoraggiare un po' i consumi natalizi quello di sicuro ma non solo è anche un fatto culturale cioè cerchiamo di far capire alle persone che anche il mare ha una sua stagionalità che il mare ha una sua filiera quindi dalla barca del pescatore fino al piatto che ci arriva in tavola ci sono diversi passaggi che poi devono essere considerati devono essere capiti e bisogna conoscere e ci saranno anche le telecamere di Rossini TV in questo fine settimana per immortalare la prima edizione di Mare Magnum a Pesaro e adesso chiudiamo il nostro telegiornale parlando di sport con una notizia di basket fa le valigie il playmaker brasiliano della Carpegna Prosciutto basket Caio Paceco che Pesaro trasferisce fino a fine stagione al Dabrova Gornizza nella massima serie polacca i tifosi della VL potranno approfondire questa ma anche tante altre notizie di basket nella puntata di domani sera di Insieme a Canestro così come tutti i giovedì in onda in diretta su Rossini TV a partire dalle 21.20 e vi ricordo anche che domani sera potrete partecipare in diretta ecco qui domani gli ospiti della puntata saranno Gora Camara pivò della Carpegna Prosciutto basket Pesaro e Mirko Facenda giornalista e opinionista questo che vedete in sovrimpressione è il numero che potete usare per partecipare al programma oppure potete anche commentare sotto la diretta facebook per poter vincere dei premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto e questa sera in prima serata invece vi aspetta un approfondimento molto interessante alle 21.20 Geocom incontra lo scrittore professore ed economista Stefano Zamagni veramente un intervento molto interessante di un evento che si è tenuto all'hotel Cursal di Cattolica Grazie come sempre per averci seguito l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV torna domani alle 7.20 in diretta con la nostra Rassegna Stampa Grazie Grazie Grazie